bellissimo ecco la faccia del Beppe che sta per essere infornata mezzogiorno e 42 minuti 57 minuti per fare 6 biscotti messo in croce abbiamo già messo i primi biscotti dentro c'è già odore di bruciato signori ci ho passato i 30 secondi ecco giusto forse 35 adesso in questo momento niente adesso ci dovremmo lavare un po di roba guardiamo ancora la bella faccina praticamente abbiamo fatto 5 6 la faccina 7 8 9 10 11 12 14 biscotti mezzo chilo fai mezzo chilo sono tipo ma si dai un 30 40 grammi di biscotti la testa a biscotto 30 40 grammi di impasto a biscotto soprattutto di burro di burro ricordiamo che c'è un buon 50 per cento di burro in questo impasto 50 e vabbè 250 per mezzo chilo di impasto mamma mia non ci resta che aspettare questi bellissimi biscotti ma dove che macello incredibile ti viene proprio la voglia di svegliarti la mattina con questo odore mmm che puzza di bruciato che voglia di lavare i piatti che voglia di lavare i piatti dopo giusto giusto a tra poco per la a tra poco per cosa come per la prova c'è per a tra poco per assaggiare a tra poco per l'assaggio e la presentazione finale del prodotto dei biscotti a tra poco ben ritrovati signori e signori abbiamo infornato i biscotti lì ce ne sono altri 5 o 6 la faccina ci vuole un po' più tempo la mettiamo dopo sono le 1 a meno 5 70 minuti ci abbiamo messo per fare questi biscotti ecco il primo risultato abbiamo assaggiato un pezzo sono spettacolari non vedete il colore non fate a casa il colore che è buonissimo no perché molla ancora sono belli duri si stavano anche bruciando pesce poverino arrostito sono venuti bene dai sono venuti benissimo che dire tanto che i biscotti sono brutti di forma lasciamo di perdere la faccina farò una foto dopo magari e niente non ecco i biscotti della casa ci vediamo alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti